I fossili sono i resti, principalmente delle parti 2, di organismi vissuti nel passato, che sono rimasti inglobati nelle rocce sedimentari. Lo studio dei fossili aiuta nell'adattazione relativa delle rocce e nella ricostruzione degli ambienti del passato e delle tappe dell'evoluzione biologica. La fossilizzazione può avvenire per mineralizzazione, cioè impregnazione dei tessuti o sostituzione delle sostanze che costituiscono le parti dure di un organismo con sali minerali insolubili, carbonizzazione, cioè arricchimento indiretto in carbonio dei materiali vegetali sepolti, inglobamento in sostanze come lamba, che permettono la conservazione di organismi completi. Grazie.